Allora io ho conosciuto Mauro e la Nadia praticamente credo 35 o 36 anni fa perché eravamo vicini di attività e ci conosciamo praticamente da sempre. Allora mi piace di più, mi piace praticamente 7 gioielli perché hanno cose sempre particolari diversi dagli altri negozi in cui entri e li trovo sempre molto raffinati gioielli unici, belli, bravi, molto bravi, veramente bravi. Beh lo consiglierei questo negozio, questa gioielleria a un'amica perché praticamente trova sempre cose uniche in un ambiente molto accogliente, persone molto accoglienti che li fanno sentire a proprio agio e unici, sono unici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.